Direttore Venturi, inizia una nuova fase della campagna abbonamenti. Innanzitutto, quali sono le novità circa l'apertura del palazzetto? Ci sono tante cose che si muovono in queste ore, in questi giorni. Attualmente i palazzetti potrebbero contenere 200 spettatori, per cui 200 tifosi, però siamo abbastanza ottimisti nel pensare che ci potrebbero essere delle novità, tanto che ci sono delle soluzioni in giro per l'Italia, alcuni esperimenti, per cui confidiamo che da qui all'inizio del campionato, il 27 di settembre, ci possa essere magari una maggior presenza di pubblico, per cui più di 200 persone. Questo è il nostro auspicio, stiamo lavorando con la Lega, stiamo lavorando con il Governo, stiamo lavorando con la Regione, insomma cerchiamo di mettere insieme quella che è la giusta tutela della salute di tutti, ma anche quella che è la voglia di tutti di ricominciare, di vedere il volley, di vedere lo sport e di tornare a vivere normalmente. È terminata pochissimi giorni fa la prima fase, quella di precedenza, della campagna abbonamenti. Adesso quindi come funziona, cosa succede? Quindi in questo momento la massima attenzione che chiediamo a chi ha fatto la precedenza è di guardare il proprio telefono, perché dovrebbe essergli già arrivato o sta arrivando in queste ore un sms, arriverà comunque anche una mail a tutti quelli che hanno fatto la precedenza, dunque controllate il telefono, controllate la vostra mail, perché vi abbiamo inviato un link al quale vi chiediamo di rispondere prima possibile, indicandoci se oltre al soggetto che ha fatto la precedenza ci sono altri congiunti o familiari che l'hanno fatta. Questo vuol dire che a quel punto, al palazzetto, nel momento in cui sarà aperto, si potrà accedere e stare seduti accanto, perché i congiunti e i familiari possono stare seduti vicino, dunque senza la distanza del metro famoso, e potranno guardare la partita insieme. Questo ci serve perché cominciamo a organizzare gli spazi, perché capite che comunque dovremo garantire lo stesso, una distanza. In questo modo andiamo avanti col lavoro e cominciamo già ad assegnare i primi posti. Questo credo che sia un primo passo per arrivare poi alla riapertura. Attenzione che chi non risponde alla nostra mail, al nostro sms con il form dove c'è scritto tutto, è chiarissimo e facilissimo, chi non lo fa saremo costretti ad assegnargli il posto come non fosse congiunto, per cui prenderà un posto singolo distante dai propri familiari, dai propri congiunti. Dunque collaboriamo tutti, noi mettiamo il nostro, voi dateci una mano, in un minuto fate tutto. I tifosi invece che non hanno aderito alla fase precedenza, che cosa devono fare? Intanto dovevano farlo, però se non l'hanno fatto sicuramente c'è una seconda finestra. Noi stiamo attendendo, come dicevo prima, di avere in disposizione su quanti spettatori potranno accedere al nostro forum, nel momento in cui avremo la capienza reale riapriremo la possibilità, apriremo di fatto la campagna abbonamenti per cui in base ai posti assegnati, prima verranno assegnati chi ha fatto la precedenza e poi i posti che mancano li daremo a chi arriverà per primo a quel punto in tutti i settori del nostro forum.